Per il Qatar, è in campo Sheikali Bin Khaled Altani che monta Eurocommerce California alla femmina Oldenburg, a 2002, figlia di Corlad, che si è ben comportato facendo dei buoni giri, non veloci al primo giorno. E finendo con una probabile partenza di 21 penalità, ma non nei primi 20, dopo le due giornate. Un'ottima cavalla, ha fatto vedere di essere veramente molto brava, molto facile. Siamo fermi a 5 qualificati per il barrage. Un nome nuovo e quattro illustri cavalieri, che ci daranno sicuramente spettacolo. 5 tempi, un po' lontano, come si distende questa California. Organizza bene, con calma il salto e avanza bene per i 6 tempi. E qui è vicino al verticale giallo, vediamo cosa vorrà fare. Quattro in avanti, lunga la distanza, che cavalla, come sale ancora all'uscita. Disunita qui però nella girata conclusiva, sta rischiando. E c'è il sorpasso di tempo, 76 e 30. In precazione da parte di Ian Tops, una penalità per Sheikali Bin Khaled Altani, ma un buon giro. Complimenti soprattutto per la cavalla. Questa è la doppia gabbia, superata facilmente. Vedete, i due tempi per uscire, il cavalliere rimane fermo, assolutamente sicuro del suo cavallo. E poi nell'altra linea, la tavola l'ha saltata lentamente e quattro in avanti, la cavalla si è distesa ed è rientrata. Grazie.